Sindaco, una rassegna estiva davvero variegata, restate a Leporano, questa sera è il momento della musica, è il momento del jazz, quindi un momento qualitativo dal punto di vista musicale. E senza altro la manifestazione di questa sera, il concerto meglio, si inserisce in un contesto già qualitativamente alto, siamo ai vertici a livello internazionale del jazz, quindi tocchiamo per la prima volta in Leporano il massimo per quanto riguarda la musica jazz. Ecco, vedendo, stiamo ancora, sta per iniziare il concerto e vediamo una platea abbastanza nutrita, abbastanza ricca, varie tipologie, non solo giovani ma anche gente di età diciamo più matura, proprio perché evidentemente gradisce questa qualità musicale. Beh, chiaramente nella elaborazione del calendario delle manifestazioni siamo stati molto attenti con l'assessore agli spettacoli relativamente proprio alle varie manifestazioni, quindi abbiamo inserito la musica jazz, questo tipo di settore, di segmento della musica, proprio per venire incontro all'esigenza, al palato fine di alcuni spettatori che vengono chiaramente dalle parti nostre. E proprio scorrendo il cartellone degli eventi notavo che ci saranno altri eventi musicali di diverso genere, proprio per accontentare le diverse sensibilità. Beh, abbiamo diversificato chiaramente l'offerta da parte del Comune di Leporano a 360 gradi proprio per offrire il meglio della musica e degli eventi. Beh, buon concerto a loro. Grazie, grazie. Grazie.